Bella torre ti permette anche di visitare i posti piccari, grazie. Grazie a te. Ah cioè, si fa l'uno e l'altro. Beh sai, la mattina comunque c'è chi magari preferisce riposare, invece io preferisco fare ginnastica, molto spesso la faccio in acqua, in questo periodo soprattutto. Eh si vede, i risultati sono magnifici. Senti, ma le prossime tanti... Io mangio molte verdure, mangio molta frutta, anche perché sono pieni di luteina che è una sostanza che tra le altre cose ho scoperto fa molto bene agli occhi e quindi mi abbuffo di queste cose. E quindi i piattini che... Bentornati, bentornati, Annalisa Minetti che si prepara anche, oltre al suo pur già in corsa, un nuovo brano, un singolo.